Gesù era vicino a me e immaginavo che, come me, stesse tremando di orrore. Invece si avvicinò di un passo, poi due. «Rabbi, non andarci!» esclamai. «È impuro!» Gesù camminò verso il lebroso. Giacomo e Giovanni provarono a trattenerlo. Ordinò loro di lasciarlo. Il lebroso si alzò. In piena luce era orrendo, con il naso corroso dal suo male, la faccia decomposta. Gesù tese la mano. «No!» mormorai. Mi avvicinai, sperando ancora di evitare il peggio. Ma Gesù toccò il lebroso. «Lo voglio!» disse Gesù. «Sì, purificato!»